buongiorno questo video penso che sarà breve perché è un concetto abbastanza semplice allora io vado avanti a dire nell'ottanta per cento dei miei video che personalmente io sono una persona che al limite vi può accendere delle scintille di illuminazione dentro la vostra testa vi può dare senz'altro una mano a capire determinate dinamiche della vostra interiorità o senz'altro rispetto ad altre persone di voi che non hanno mai compiuto studi in ambito sociologico psicologico meditativo o senz'altro è indubbio dirlo un quid in più di esperienza ma io vado avanti a dire in quasi tutti i miei video che non ho la verità in tasca io personalmente che nessuno che nessuno ha la verità in tasca ok nessun autore nessun filosofo nessun politico nessun cantante nessun guru nessun santone metteteci tutti i cazzo che volete ok vado avanti a dire questo per quale motivo anche perché c'è una legge che non so neanche come definirla perché io non sono un tuttologo o un cosmologo diciamo comunque definiamola che una legge che tutte le somme danno risultato zero cosa voglio dire che se una persona un autore un editore uno youtuber un che cazzo non so uno scrittore qualsiasi editore che come me crei dei contenuti mediali o multimediali si pone come un guru come detentore lui dell'unica verità ok come di fatto quasi come fosse il vostro dio ok automaticamente questa persona può solamente attrarre in questo caso di youtube parliamo di questa piattaforma per non fare un discorso troppo largo ma vale a varrebbe anche come fosse uno scrittore i suoi lettori che compre il libro o cosa attrae può attrarre solamente persone con una bassissima autostima di sé ok perché se tu ti poni come il maestro supremo di verità di vita ok ma ne sei veramente convinto non magari in maniera ironica come fanno altri miei amici youtuber qui che giustamente su youtube tutti noi facciamo anche un po di wrestling cosa intendo per wrestling metaforico che la dobbiamo sparare un po grossa volta dobbiamo buttare il fuoco d'artificio o cosa perché cazzo voglio vorrei provare a mettere voi qui a cercare di fare visualizzazioni iscritti e via dicendo quindi è normale e quindi sono normali anche quelli youtuber tra i quali ne ho qualche amico che nei loro video ironicamente e sottolineo ironicamente questo avverbio si professano come maestri di vita ma se uno ha l'intelligenza leggermente superiore a quella di una blatta sapete con quegli scarafaggi neri che in campagna trovate in mezzo alle patate e così capisci che ironia quello ma quelli invece che si professano come veri maestri di vita veri autentici e che pensano veramente di essere di essere degli dei loro possono attrarre tra i loro iscritti solamente dei babbei con un'autostima praticamente quella pari ad una blatta quella che dicevo delle patate che ci sono in campagna le boie panatere si chiamano in piemontese ok perché perché se tu solamente se tu hai una bassa autostima vieni attirato da uno che si professa il mago telma ma che a differenza del mago telma che è ironico perché anche quello è ironico è un pagliaccio ma si vede che prende per il culo quello si crede veramente dio quello si crede veramente il detentore dell'unica verità ok ecco per cui è anche per questo che io vado sempre a dire avanti come un mantra guardate che io non ho la verità in tasca io posso solo darvi degli spunti che vi accendono delle riflessioni dentro la vostra testa perché se io fossi un coglione che facessi dei video in cui mi presentassi con una specie di corona in testa e vi dicesse ecco è arrivato daier il vostro dio supremo l'unico calaverità in tasca ecco sudditi miei ascoltate il mio verbo magari con un bastone tipo biblico un bastone biblico tra le mani chi potrei attrarre potrei attrarre dei mentecatti che veramente crederebbero a queste cose potrei attrarre degli psicolabili ecco psicolabili le persone normalmente che si attaccano a questi santoni che assolutizzano tutto e ritengono che il loro verbo sia la verità suprema possono solamente attrarre degli psicolabili perché se tu hai un minimo di cervello e di spirito critico ascolti daier morelli anche però poi ascolti anche mario morelli anche filippo morelli anche per fare dei nomi fantasiosi di altri youtuber a parte youtuber leggi anche degli altri autori dei libri cioè ti fai una specie di cocktail di tutte le cazzate che dico io che dice un altro youtuber che dice ancora un altro youtuber che dice l'altro filosofo che dice galimberti che dice cacciari che e poi con la tua testa sta cazzo di capoccia sta cazzo di capoccia che avete qua con la tua testa scremi quello che di buono ha detto daier morelli anche quello che di buono ha detto cacciari quello che di buono ha detto chi cazzo citato non me lo ricordo o cosa ma se tu invece sei uno psicolabile come purtroppo noto che ce ne sono tanti qua su youtube tra gli iscritti noto che sul mio canale fortunatamente ce n'è pochissimi e quei pochi che arrivano iniziano a commentarmi mi dicono ma tizio per nominare un altro youtuber ha detto una cosa contraria a te e mi linkano il video di quello youtuber che tra l'altro magari quello youtuber è pure un mio amico no e io gli dico ma grazie al cazzo ma cosa me ne frega se l'altro youtuber ha fatto un video in cui dice una cosa contraria alla mia cioè ma siamo a sti livelli questa gente questi questi qua sono degli psicolabili e io che vado avanti a dire in ogni quasi tutti i miei video cerchiamo di crescere iscrivetevi o cosa per favore se ci sono degli psicolabili delle blatte del genere blatte non è uno sminuente della vostra dignità ma il fatto è che se sei uno psicolabile hai scelto tu di esserlo ok quindi è un demerito tuo ecco no non state in questo canale cioè avete capito qual è il rischio di affidare uno dei tanti rischi di affidarvi ad un santone a uno che vi dice che ha la verità assoluta uno che vi dice che quello che dice lui è l'unica cosa vera che esiste al mondo ecco il rischio è che soprattutto nelle menti più giovani perché un conto io che ho più di 40 anni ma un ragazzo di 18 anni di 20 anni e a questo canale ce ne sono iscritti se tu gli è un po come un pezzo di pongo è ancora informazione no se tu gli dici a io sono il dio supremo quello che dico io dai armorelli anche l'unica verità non ascoltate gli altri che sono deve avere o cosa rischi anche di rovinarlo quel ventenne lì quel diciottenne lì ok però anche voi di 18 anni che siete iscritti a questo canale e ce ne sono diversi mi raccomando non è che vi giustifica l'avere 18 anni perché 18 anni vuol dire già che sei una persona in teoria sottolineo in teoria formata cerebralmente ok quindi devi avere la capacità di capire che se tu idolatri un uno youtuber un qualsiasi produttore di contenuti come se fosse un dio è perché tu c'hai un'autostima che è sotto zero che è sotto zero cioè la tua autostima è in cantina praticamente è chiaro questo discorso io voglio che ogni iscritto qui segue i miei video mi critichi anche se sbaglio a dire delle cose perché senz'altro io sbaglio a volte oppure se non sbaglio comunque si possa dibattere ma tu che stai guardando questo video io voglio portare te a ragionare con la tua testa anche a costo che magari una volta io ti faccio ragionare e poi magari un'altra volta io dico una cazzata e tu capisci che io sto dicendo una cazzata ma io voglio nel mio piccolo che ogni iscritto che guardi un mio video cresca lui non devo crescere io io non sono dio io non sono il santone io non sono il vostro guru come vado a dire in ogni video ma volevo fare questo questo video di precisazione che io vado anche avanti a dire sempre questo per voi perché tu che stai guardando questo video nel non considerarmi un dio nel non considerarmi un guru nel non considerarmi il detentore della verità assoluta o cosa benché su certe cose indubbiamente sarò magari più saggio di te che c'hai vent'anni in meno di me o che hai studiato determinate cose in meno di me per carità però assolutamente nel cercare io umilmente di dirti guarda che io ti posso dare uno spunto di verità ma non ce l'ho in tasca è una mia volontà di fare crescere te che stai guardando questo video mi capisci penso che mi abbiate capito tutti non vado avanti oltre con questo video volevo farlo anche sotto i dieci minuti siamo già 11 minuti se avete capito questo discorso che ho fatto e penso che sono stato più chiara ancora che in altri video in questo per favore mettete un like un commento e iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fa al nostro canale se non l'avete ancora fatto ok un saluto un bacio a tutti ciao